Molte poesie sono accompagnate da un'immagine che non è l'illustrazione dei versi, immagini semplici che hanno una forma autonoma ma nello stesso tempo racchiudono il senso dei versi ai quali fanno riferimento. La disposizione dei versi delle immagini è collocata in modo tale che i versi siano la lingua originale, le immagini, la traduzione e come tale un'interpretazione che non rispecchia la parola. La matita va per conto suo e io la lascio tracciare per interpretare e scrutare l'imprevisto. Giuseppe Zilli